Zosima Fyodor Mikhailovich Dostoevsky I fratelli Karamazov Era di bassa statura, curvo, con le gambe molto deboli. Aveva solo 65 anni, ma a causa della malattia sembrava molto più anziano, almeno di una decina d'anni. Il suo viso rinsecchito era tutto solcato da rughette minute, particolarmente fitte intorno agli occhi. Gli occhi erano piccoli, chiari, mobili, scintillanti, come due punti luminosi. Gli erano rimasti solo alcuni ciuffetti di capelli canuti sulle tempie. La barbetta era rada e minuscola, a punta, e le labbra, che sorridevano spesso, erano sottili come due cordicelle. Il naso non era tanto lungo quanto affilato, come il becco di un uccellino. Secondo tutte le apparenze, un'animuccia perfida e piena di vie calterigia, venne in mente Amiusov. In generale era molto insoddisfatto della situazione in cui si trovava. I rintocchi dell'orologio aiutarono a ricominciare la conversazione. Il piccolo e modesto orologio a pendolo batte rapido le dodici. «È l'ora dell'appuntamento, esatta, esatta!» gridò Fyodor Pavlovich. «E mio figlio Dmitri Fyodorovich non si è ancora visto. Chiedo scusa per lui, Santo Starek!» Aliosha trasalì tutto nel sentire Santo Starek. «Io invece sono sempre puntuale. Spacco il minuto e tengo a mente che la puntualità è la cortesia dei re. Eppure voi non siete un re, se non mi sbaglio!» Borbottò Miusov, perdendo subito la pazienza. «Sì, questo è vero, non sono un re! Pensate, Piotr Aleksandrovich, che questo lo sapevo da me, quanto è vero il Dio! Ma ecco che dico sempre la cosa sbagliata, reverendo!» esclamò con repentino fervore. «Dinanzi a voi vedete un autentico buffone. Mi presento così. È una vecchia abitudine, ahimè. E se alle volte parlo a sproposito, lo faccio con uno scopo. Lo scopo di divertire ed essere piacevole». «Bisogna pur riuscire piacevoli, non è vero?» «Un sette anni fa, arrivo in una cittaduzza, avevo dei piccoli affari da sbrigare. Avevo formato una piccola società con certi mercantucci. Andiamo dagli Spravnik, perché dovevamo chiedergli una cosa e invitarlo a pranzare con noi. Esce lì Spravnik, un uomo alto, grasso, biondo e tetro, i soggetti più pericolosi in simili casi. È per il fegato che sono così. Sì, per il fegato. Io gli dico direttamente, e sapete, con la disinvoltura dell'uomo di mondo. «Signore Spravnik, siate il nostro, per così dire, Napravnik». «Ma quale Napravnik?» replica lui. «E io mi rendo conto, dal primo mezzo secondo, di aver fatto cilecca. Lui se ne sta lì serio serio, tutto d'un pezzo, e io gli dico. L'ho detto per scherzare un po', per stare tutti allegri, siccome il signor Napravnik è il nostro famoso direttore d'orchestra russo e noi abbiamo appunto bisogno, per l'armonia della nostra impresa, di qualcosa di simile a un direttore d'orchestra». «Diedi una spiegazione molto ragionevole del mio paragone, non vi pare?» «Scusate, io sono un Ispravnik e non permetto che si facciano giochi di parole sul mio titolo», dice lui, «poi si gira e va via. Io lo seguo e gli urlo dietro. «Sì, è vero, siete un Ispravnik, non un Napravnik!» «No, una volta che l'avete detto, ormai sono un Napravnik», dice lui. «E figuratevi che quel nostro affare andò in fumo proprio per questo, e sono proprio così, sono sempre così, puntualmente danneggio me stesso con la mia stessa affabilità». «Una volta, molti anni fa, dissi a un personaggio influente, la vostra consorte è una donna molto sensibile, mi riferivo all'onestà, sapete, alle qualità morali, e lui, a bruciapelo, mi fa, perché le avete fatto il sollettico?» «Non riuscì a trattenermi, e così all'improvviso pensai di dire qualcosa di carino». «Sì, le ho fatto il sollettico, ma a quel punto fu lui a farmi il sollettico. Solo che è successo tanto tempo fa, e non ho più vergogna a raccontarlo. Io danneggio costantemente me stesso in questo modo». «Lo state facendo anche in questo momento», borbottò Miussov con disgusto. Lo Starek guardava in silenzio, ora l'uno, ora l'altro. «Davvero? Pensate, sapevo anche questo, Piotr Aleksandrovich, e addirittura, sapete, ho avuto il presentimento che l'avrei fatto non appena avessi cominciato a parlare, e sapete, ho avuto addirittura il presentimento che sareste stato voi il primo a farmelo notare. Il momento in cui mi rendo conto che lo scarso non mi riesce, reverendo, «Tutte e due le guance cominciano ad attaccarsi alle gengive inferiori, come se avessi un crampo. Questo mi accade sin dalla giovinezza, quando facevo il parassita presso i nobili, e mi procuravo il pane a ufo. Io sono un buffone incallito dalla nascita, reverendo, praticamente un puro folle. Non discuto che in me possa nidarsi, reverendo, uno spirito impuro, non di grande calibro, però. Uno spirito più importante avrebbe scelto un altro alloggio. Certo nemmeno il vostro, Piotr Aleksandrovich, visto che neanche il vostro alloggio è un granché. In compenso, credo, credo fermamente in Dio. Soltanto di recente sono stato assalito dai dubbi, ma in compenso adesso sono in attesa di sublimi parole. Io, reverendo, sono come il filosofo di Derò. Avete mai sentito, Santissimo Padre, di quella volta che il filosofo di Derò si presentò al metropolita Platon all'epoca dell'imperatrice Caterina, entra e dice su due piedi, Dio non esiste. Al che il grande prelato alza il dito e risponde, dice lo stolto in cuor suo, Dio non esiste. Quello allora, in un batter d'occhio, scatta in piedi e grida, credo e accolgo il battesimo. E così lo battezzarono lì per lì. La principessa da scova, Ferce da madrina, e Potienkim da padrino. Fyodor Pavlovich, è una cosa inammissibile, eppure sapete benissimo che state mentendo e che questo stupido aneddoto non corrisponde al vero. Perché fate il pagliaccio? gridò Mjusof con voce tremante, perdendo completamente il controllo. Per tutta la vita ho avuto il presentimento che non fosse vero, esclamò con trasporto Fyodor Pavlovich. A voi, signori, però dirò tutta la verità. Grande Starek, Perdonatemi, l'ultima parte dell'aneddoto, quella sul battesimo di Diderot, l'ho inventata lì per lì. Nel momento stesso in cui la raccontavo, prima non mi era mai venuta in mente. L'ho inventata per rendere l'aneddoto più piccante. Piotr Aleksandrovich, io mento per riuscire più simpatico, ma del resto non so neanch'io, a volte perché lo faccio. Quanto a Diderot, ho sentito quel dice lo stolto una ventina di volte dai proprietari locali, quando ero giovane e vivevo a loro spese. L'ho sentito dire, fra l'altro, anche dalla vostra zietta, Piotr Aleksandrovich, da Mavra Fominiscia. Sarà Fominis... 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 Essi sono tutt'oggi convinti che il miscredente di Diderot sia andato dal metropolita Platon a disputare su Dio. Miusov si alzò ad iratto, addirittura come fuori di sé. Era furioso e conscio di rendersi ridicolo per questo. In realtà, quello che stava avvenendo nella cella era assolutamente inaudito. Per 40 o 50 anni, dai tempi dei primi starsi, nessun visitatore era mai entrato in quella cella senza provare un sentimento di profondissima venerazione. Nel momento stesso in cui entravano nella cella, quasi tutti gli ammessi si rendevano conto che veniva loro concesso un grande favore. Molti si gettavano in ginocchio e non si alzavano fino alla fine della visita. Molti fra i visitatori più altolocati e anche fra i più colti, addirittura alcuni liberi pensatori, spinti dalla curiosità o da altri motivi, quando entravano in quella cella insieme a tutti gli altri o in udienza particolare, ritenevano loro dovere primario, tutti, nessuno escluso, manifestare il più profondo rispetto e la massima delicatezza per tutto il tempo della visita. Tanto più che in quel luogo il denaro non contava, ma c'erano solo da una parte amore e pietà, dall'altra pentimento e brama di risolvere qualche difficile questione dell'anima o qualche difficile momento nella vita del proprio cuore. Quindi, la buffoneria che Fyodor Pavlovich aveva tirato fuori, così irriverente nei confronti del luogo nel quale ci si trovava, produsse negli astanti, se non altro in alcuni di loro, sconcerto e stupore. Gli iero monaci, la cui fisionomia era rimasta inalterata, aspettavano, seri e vigili, quello che avrebbe detto lo Starek, ma sembravano pronti ad alzarsi come Miusov. Aliosha era sul punto di piangere e stava in piedi a testa bassa. La cosa più strana di tutte per lui era che suo fratello, Ivan Fyodorovich, l'unico sul quale egli avesse riposto le sue speranze e l'unico che avesse una tale influenza sul padre da essere in grado di fermarlo, se ne stava seduto immobile al suo posto, con gli occhi bassi e sembrava addirittura che aspettasse, molto incuriosito, come sarebbe andata a finire la faccenda, quasi fosse uno spettatore completamente estraneo ad essa. Aliosha non riusciva a guardare in faccia neanche Rakitin, il seminarista, che pure egli conosceva molto bene e del quale era quasi intimo. Conosceva le sue idee, sebbene in tutto il monastero fosse l'unico a conoscerle. Perdonatemi, prese a dire Mjusov rivolto allo Starek, forse anche io vi sembrirò complice di questo ignobile scarzo. Il mio errore è stato quello di credere che persino un tipo come Fyodor Pavlovich, in occasione della visita a una persona così venerabile, si rendesse conto dei propri doveri. Non immaginavo che avrei dovuto scusarmi per il fatto di essere venuto in sua compagnia. Piotr Aleksandrovich non finì di parlare e tutto confuso fece per uscire dalla stanza. Non inquietatevi, vi prego. Lo Starek si alzò all'improvviso dal suo posto sulle gambe malferme e prendendo Piotr Aleksandrovich per entrambe le mani, lo fece risedere al suo posto. State tranquillo, vi prego, chiedo a voi in modo particolare di rimanere mio ospite. Fece un inchino, si girò e si sedette di nuovo sul suo divanetto. Grande Starek, ditemi, vi sto forse offendendo con la mia vivacità? gridò ad un tratto Fiodor Pavlovich afferrando con entrambe le mani i braccioli della sedia come sul punto di fare un balzo a seconda della risposta. Prego caldamente anche voi di non inquietarvi e di non sentirvi in imbarazzo, gli disse lo Starek con tono suadente. Non sentitevi in imbarazzo, ma fate come se foste a casa vostra e soprattutto non vergognatevi tanto di voi stesso, giacché è da questo che deriva tutto. Come se fossi a casa mia, cioè nel mio aspetto naturale, oh, questo è molto, davvero, troppo, ma l'accetto commosso. Sapete, Padre Benedetto, non dovreste invitarmi ad assumere il mio aspetto naturale, vi consiglio di non rischiare. Non ci arrivo nemmeno io al mio aspetto naturale. Vi avviso per il vostro stesso bene. Beh, il resto è ancora volto nelle tenebre dell'ignoto, anche se ci sono persone a cui farebbe piacere farvi una mia descrizione. Sto parlando di voi, Piotr Aleksandrovich. Quanto a voi, Santissima Creatura, ecco quello che vi dico. Sto traboccando dall'estasi, si alzò e alzando le braccia in alto, recitò, Beato il ventre che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato, le mammelle soprattutto, ora voi, con la vostra osservazione, non vergognatevi tanto di voi stesso perché è da questo che deriva tutto, voi, ora, con questa osservazione, mi avete trafitto da parte a parte e mi avete letto dentro. Io ho proprio l'impressione, quando sono in mezzo alla gente, di essere il più meschino di tutti e che tutti mi prendano per buffone e così mi dico, allora lo faccio per davvero il buffone, non temo la vostra opinione, perché siete tutti dal primo all'ultimo più meschini di me. Ecco perché sono un buffone, per la vergogna, grande Starek, per la vergogna, è solo per diffidenza che attacco briga, infatti, se nel presentarmi alla gente mi convincessi di essere accolto da tutti, come il più bravo e il più simpatico degli uomini, signore, che brava persona sarai maestro, cadde di colpo in ginocchio, che cosa devo fare per conquistare la vita eterna? Anche adesso era difficile stabilire se stesse scherzando o fosse davvero commosso. Lo Starek alzò gli occhi verso di lui e disse con un sorriso, voi stesso da molto tempo sapete quello che dovete fare, di intelligenza ne avete a sufficienza, non abbandonatevi all'ubriachezza e al turpilocchio, non abbandonatevi alla lussuria e soprattutto all'idolatria del denaro, chiudete le vostre bettole, se non potete chiuderle tutte, almeno due o tre e soprattutto sopra ogni altra cosa, non mentite. Vi riferite al fatto di Diderot, vero? No, non al fatto di Diderot, la cosa più importante è che non mentiate a voi stesso, colui che mente a se stesso ed ha ascolto alla propria menzogna arriva al punto di non saper distinguere la verità né dentro se stesso né intorno a sé e quindi perde rispetto per se stesso e per gli altri. Costui, non avendo rispetto per nessuno, cessa di amare e incapace di amare per distrarsi e divertirsi si abbandona alle passioni e ai piaceri volgari e nei suoi vizi tocca il fondo della bestialità e tutto questo a causa dell'incessante menzogna nei confronti degli altri e di se stesso. Colui che mente a se stesso è più suscettibile degli altri all'offesa. Offendersi a volte è molto piacevole, non è vero? Eppure egli sa che nessuno gli ha arrecato offesa, ma che egli stesso si è inventato l'offesa e ha mentito per mettersi in mostra, ha esagerato egli stesso per creare un quadretto prittoresco, ha tratto spunto da una parola e ha fatto di un sassolino una montagna. Egli sa benissimo tutto questo, tuttavia è il primo a offendersi, a offendersi per provare piacere, per assaporare una grande soddisfazione e così finisce per nutrire autentico rancore. Ma alzatevi di lì e mettetevi seduto, ve ne prego caldamente, già che anche questi sono gesti pieni di menzogna.